salve a tutti amici e amiche nel video di oggi torniamo a parlare di spazio più precisamente di spazioplani la storia che vi raccontare oggi è un mix di spionaggio guerra fredda guerra spaziale e del crollo di un impero se pensate mi stia riferendo a uno dei tanti episodi di giorgio luca e delle sue guerre stellari beh vi sbagliate oggi parleremo di del buran lo space shuttle sovietico come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui in basso a sinistra trovate il bottoncino per farlo dove potete fare anche una donazione o abbonarvi al costo di un caffè al mese e non dimenticate di lasciarmi un mi piace è importantissimo come molti sanno la storia dell'unione sovietica è lunga e complessa con tutti i suoi aspetti controversi politici e sociali conflitti e il rischio della fine del mondo in quella che viene chiamata guerra fredda che poi tanto fredda alla fine non era non mi occuperò di certo degli aspetti politici ma se parliamo di tecnologia aerospaziale beh è tutto un altro discorso ed è un fatto che la corsa allo spazio vide un continuo testa a testa fra unione sovietica e stati uniti a partire dagli anni 60 fino alla sua fine l'8 dicembre 1991 fu una vera e propria gara per primati missioni con i primi satelliti gli uomini le passeggiate spaziali l'esplorazione di altri pianeti satelliti con sonde e le stazioni spaziali all'inizio degli anni 70 gli stati uniti si misero al lavoro per lo sviluppo di una navetta riutilizzabile uno spazio plano che potesse permettere il lancio di satelliti la loro manutenzione e rientrare dallo spazio abbattendo così i costi di esercizio l'idea quindi di riutilizzare la navetta sulla carta si presentava più economica che lanciare vettori che poi sostanzialmente erano a perdere in realtà poi data la complessità del sistema shuttle alla lunga si scoprì che tanto economico non era ma in ogni caso in un'epoca in cui come ho accennato unione sovietica e stati uniti si osservavano a vicenda in un continuo botta e risposta soprattutto botta se guardiamo proprio agli esperimenti atomici quando i russi seppero di questo progetto americano vollero realizzare la loro versione dello stesso questo progetto di programma spaziale fu il più impegnativo e costoso mai realizzato dall'unione sovietica all'epoca gli ingegneri russi non furono molto favorevoli all'idea di copiare il modello dello shuttle americano perché in realtà erano più orientati verso un più piccolo veicolo leggero con un corpo aerodinamico insomma erano più per un oggetto più simile al moderno x37b americano che vi mostro in questo esempio il vantaggio di queste piccole astronavi e che possono essere lanciate in modo tradizionale all'interno della stiva e posti in cima al missile tradizionale quindi in corrispondenza dell'asse longitudinale il che rende il loro lancio molto più semplice da un punto di vista aerodinamico vettoriale e ingegneristico per poi fare la loro missione stare a lungo nello spazio in automatico e rientrare planando come un aeroplano ma quando il 12 aprile 1981 tutte le televisioni del mondo trasmisero il primo lancio dello shuttle americano era il columbia sappiamo che i leader militari sovietici non la presero affatto bene le informazioni sull'sts americano che arrivarono in russia attraverso i canali mediatici o delle fonti più discrete del kgb furono accolte con irritazione e sospetto cosa avrebbero fatto gli americani con uno spazio plano riutilizzabile capace di portare in orbita quasi 30 tonnellate di carico e in grado di fare 50 missioni all'anno chiaramente il programma sts americano non si avvicinò mai a un numero così elevato di missioni all'anno ma queste notizie che trapelarono e che possiamo dire fecero preoccupare i leader sovietici erano reali concrete in sostanza ovviamente a quel tempo magari questi leader avrebbero dovuto preoccuparsi di sfamare la popolazione data l'enorme crisi alimentare che incombeva sul paese ma di fatto fu scelto di spendere 16,4 miliardi di rubli per un programma fotocopia di quello americano solo per motivi propagandistici e che avrebbe fatto magari poi solo un volo spaziale ma arriviamoci per gradi in ogni caso alla fine questi leader militari spinsero gli ingegneri aerospaziali sovietici per realizzare una controparte dello shuttle americano perché pensavano che gli americani avessero realizzato l'sts per scopi militari in realtà bisogna dirlo solo una piccola parte delle missioni dello shuttle americano fu di mettere in orbita satelliti militari mentre fu usato ampiamente per costruire la stazione spaziale americana la ISS per missioni leggendarie come la messa in orbita del telescopio spaziale Hubble e la sua riparazione e non solo tutta la classe di satelliti per la navigazione gps per le telecomunicazioni per un totale di 135 missioni di cui 133 con successo quindi dire che lo shuttle americano fosse nato per motivi militari è un po insomma un'assurdità all'inizio degli anni 80 così comunque prendevano forma i primi modelli del buran che esteticamente si presentava praticamente identico allo shuttle americano ma era davvero così come ha fatto poi l'unione sovietica a realizzare una copia perfetta dello shuttle si tratta del plagio più costoso del ventesimo secolo la risposta è ni cioè in realtà shuttle e buran si assomigliano solo esteticamente internamente sono due cose molto diverse soprattutto possiamo presumere che il kgp avesse messo le mani su dati magari universitari e di ricerca sparsi negli stati uniti grazie ad una fitta rete di spionaggio e spie sul territorio americano ma in realtà è più ragionevole credere che soluzioni estetiche e aerodinamiche adottate dal buran fossero state semplicemente quelle più convenienti da un punto di vista ingegneristico nel senso frutto della galleria del vento e se l'ala a delta e le piastrelle termiche erano la soluzione più efficiente non aveva senso non copiarle cioè fare qualcosa di diverso significava fare le cose in modo peggiore di conseguenza poi la posizione del veicolo posta sul fianco del vettore al momento del lancio anche questa è una soluzione obbligata non è una scelta dettata dal caso ma deriva dalla massa del veicolo stesso che appunto se è troppo grande non può stare in cima al razzo altrimenti questo avrebbe enormi problemi di stabilità ma a parte queste due caratteristiche principali dell'ala delta e di una configurazione simile per il lancio le differenze fra l'STS americano e il buran sono come dire molto molto di più delle somiglianze e vediamole partiamo dall'esterno intanto il buran era leggermente più piccolo dello shuttle non tanto ma la differenza di peso era enorme lo shuttle pesava 82,5 tonnellate mentre il buran 62 e questo ci porta alla differenza più importante fra i due veicoli i motori lo space shuttle utilizzava i suoi tre motori durante la fase di lancio come sistema di propulsione principale per raggiungere l'orbita oltre ai due booster a propellente solido una volta raggiunta l'orbita lo shuttle si separava dal serbatoio di carburante spegnendo i suoi motori definitivamente a quel punto finiva le corrazioni e le manovre orbitali solo utilizzando sui piccoli motori rcs che servivano per le manovre e per il rientro di conseguenza lo shuttle finiva la fase finita la fase di accensione si portava appresso i tre motori come un peso morto diverso era invece il buran che non utilizzava i suoi motori per il lancio ma si affidava interamente al razzo principale chiamato energia con i suoi quattro motori più i quattro booster a loro volta ognuno di essi aveva quattro motori ciascuno una volta raggiunta l'orbita il buran poteva utilizzare i suoi due piccoli motori cosa che da un punto di vista teorico lo rendevano molto più vicino a un'astronave come concetto che all'orbita americano questo differente approccio al lancio seppure in una configurazione estetica simile era in realtà molto diverso all'epoca i sovietici erano leggermente più avanti nella realizzazione di razzi e motori a propellente liquido questo poi si è visto ampiamente con l'enorme affidabilità dimostrata dalle soyuz con 151 missioni con equipaggio dagli anni 60 ad oggi il fatto che il buran si affidasse al vettore energia e a quattro razzi usiliari tutti con quattro motori dava molte più garanzie di affidabilità e ridondanza e per esempio escludeva il rischio delle guarnizioni dei propellente solidi che portarono alla perdita del challenger americano il 28 gennaio dell'86 i motori a propellente liquido poi potevano essere ampiamente controllati cosa che per esempio era impossibile con i booster dello space shuttle americano che una volta accesi esprimevano al massimo la loro potenza fino all'esaurimento del carburante solido un poco come i fischioni di capodanno in realtà la cosa più interessante del programma spaziale sovietico buran non era poi lo spazio plano in sé ma il vettore che lo lanciava il razzo energia più i suoi quattro booster zenith pensato per essere tutto il sistema riutilizzabile aveva una guida sua autonoma indipendente e dei valori di spinta e di capacità di carico fino a 175 tonnellate che non si vedevano dal saturn americano che aveva mandato gli uomini sulla luna insomma era un mostro di potenza per lungo tempo è stato l'unico razzo a poter raggiungere e superare in certe configurazioni le capacità di carico del saturn americano almeno fino all'arrivo dei razzi super heavy di elon musk in termini di riutilizzabilità e quattro razzi ausiliari nelle versioni successive avrebbero dovuto equipaggiarsi con ali dispiegabili che li avrebbero dovuti riportare indietro ed atterrare come aeroplani notevole il razzo energia effettuò in tutto due voli il primo volo inaugurale fu condotto senza il buran ma con un carico molto particolare il satellite polius era un grosso satellite militare lungo 37 metri per 80 tonnellate di peso equipaggiato con un sistema ottico un radar un laser di puntamento una docking port per potersi agganciare al buran uno scudo per la bassa osservabilità delle mine nucleari per generare un campo minato spaziale un cannone per la difesa di punto un lanciatore di bersagli per dimostrare l'efficacia della sua arma principale che consisteva in un laser ad anidride carbonica da un megawatt di potenza questo oggetto in sostanza avrebbe avuto l'approvazione di dart fener di star wars vi state chiedendo ma è normale o me le sto inventando beh no è vero nel senso questo satellite da 80 tonnellate era vero beh è un fatto che negli anni 80 i due governi degli stati uniti e dell'unione sovietica erano soliti esagerare per quanto riguardava la minaccia spaziale infatti furono caratterizzati da tutta una serie di minacce e affermazioni circa la guerra spaziale l'intercettazione di missili nucleari e la messa in orbita di satelliti in grado di lanciare armi nucleari eventualmente ronald reagan fu il primo a parlare di scudi spaziali e l'utilizzo di armi laser per l'intercetto di satelliti e missili in orbita quindi ecco spiegato il polius che in teoria con il suo laser avrebbe dovuto colpire i satelliti di difesa americani prima che questi intercettassero i missili nucleari sovietici che a loro volta sarebbero partiti a seguito del primo lancio di missili nucleari americani se questo ragionamento vi sembra un poco contorto si lo è ma questa è stata la guerra fredda fra l'altro se avete visto il film space cowboys del 2000 il satellite che gli astronauti i vecchietti della nasa in cui c'è fra l'altro clint eastwood e tom lee jones e satellite che andranno a riparare sarà proprio una citazione al polius né più né meno quindi guerre stellari secondo le idee sovietiche a parte fu deciso di lanciare questo enorme satellite monumentale da 80 tonnellate insieme al razzo energia già che c'erano poche ore prima del lancio michael gorbachev in uno dei suoi slanci di apertura verso la pace disse che il laser del polius non sarebbe mai stato utilizzato in orbita questo perché non voleva che l'unione sovietica fosse vista come una minaccia spaziale ok ma comunque le 80 tonnellate ormai erano sulla rampa di lancio e infatti il 5 giugno 1987 partivano insieme al razzo energia e tutto andò per il meglio fino alla separazione quando il polius che per motivi aerodinamici era stato montato a testa in giù avrebbe dovuto ruotare di 180 gradi per così poi accendere i suoi motori e infilarsi immettersi in orbita ma qualcosa non funzionò e dopo una rotazione iniziale di 180 gradi continuò fino a 360 gradi a quel punto accese i motori de orbitando e di fatto poi bruciò parzialmente nell'atmosfera fino a tuffarsi nel pacifico in ogni caso il razzo energia si comportò splendidamente in questo primo volo di test che inizialmente doveva equipaggiarsi solo con una zavorra di 100 tonnellate e che all'ultimo momento in modo troppo approssimativo e avventato fu deciso di equipaggiarlo col satellite polius in ogni caso un anno dopo energia era pronto per il suo lancio con il buran per tornare quindi a parlare dello shuttle russo abbiamo visto le principali differenze esterne oltre ai motori e alle dimensioni comunque aveva 38.600 piastrelle per la protezione termica che gli avrebbero permesso fino a 100 rientri all'interno si presentava comunque un po diverso dallo shuttle aveva tre ponti divisi fra la sezione dell'abitacolo con i posti per il comandante di missione il pilota e l'ingegnere specialista sotto l'abitacolo c'era la sezione intermedia che ospitava le apparecchiature ausiliarie e il supporto virtuale e abbastanza spazio per sei membri dell'equipaggio più l'ultima sezione che ospitava le batterie e altri impianti elettrici nella stiva c'era la sezione cilindrica che poteva estendersi a differenza di quella dello space shuttle poteva estendersi aveva la docking port che poteva agganciarsi con la stazione spaziale mir e il già citato polius una delle principali differenze fra il buran e lo shuttle americano consisteva nel fatto che era progettato per essere completamente autonomo cioè non aveva bisogno di equipaggio per operare il buran poteva effettuare l'intera missione in modo autonomo e anche atterrare mentre lo shuttle no aveva un sistema di atterraggio automatico ma al di là dei programmi per il suo lancio tutto il resto avveniva in manuale solo più avanti nel corso della sua storia e del suo impiego e sviluppo furono introdotti dei piloti automatici ma che serviranno e servirono sempre come backup all'equipaggio quindi come ho detto al di là delle somiglianze estetiche c'erano anche troppe differenze importanti per dire che il buran è stato un copia in colla sputato dello shuttle arriviamo quindi ai suoi voli e al suo unico volo orbitale in realtà fra il 1985 e il 1988 un modello modificato del buran con quattro turbo getti montati sulla coda fece 24 voli atmosferici in cui furono testate le caratteristiche di volo come ho anticipato prima proprio grazie a intense prove nella galleria del vento si era deciso di fare soluzioni identiche a quello dello shuttle americano perché erano le più ovvie durante questi voli atmosferici non ci furono grossi problemi e quindi fu deciso di testare il buran nel suo primo volo spaziale senza equipaggio e che sarebbe partito dal famoso centro spaziale di balconur il 15 settembre 1988 dopo un tentativo fallito di lancio a causa di problemi minori il vettore energia a questo punto poi lasciava la rampa di lancio portandosi dietro il buran il lancio si svolse senza problemi di sorta e il buran si separò poco prima di entrare in orbita spingendosi poi con i suoi motori percorrendo due orbite intorno alla terra il rientro in automatico si svolse da manuale ma le condizioni atmosferiche sulla pista a quel punto erano diventate proibitive con un vento attraverso molto intenso il buran così non fece un atterraggio diretto come quello che in genere fa lo shuttle ma realizzò un secondo passaggio si dice in gergo aeronautico il sistema in automatico calcolò alla perfezione il vento e così al secondo tentativo atterrò a meno di 10 metri dal punto selezionato con questo volo il buran è stato il primo spazio plano a compiere un volo completamente automatico considerato il successo della missione fu programmata subito una missione successiva e una terza tutte nello stesso anno il 1991 il primo volo con occupaggio era previsto per il 1994 il programma per lo shuttle sovietico seppure il ritardo rispetto all's ts americano si prefiggeva quindi di entrare nel pieno del suo ciclo operativo ma come tutti sappiamo nel 91 l'unione sovietica implose e a quel punto le priorità economiche erano ben altre tuttavia il programma non fu cancellato inizialmente non del tutto ma sospeso fino a condizioni migliori che però non arrivarono mai e nel 1993 boris yeltsin cancellò formamente il programma in 20 anni di sviluppo il programma energia e buran era costato qualcosa come 34 miliardi di dollari che oggi sarebbero qualcosa come 76 miliardi di dollari cifre astronomiche che di certo non potevano essere sostenute così e buran aspettava nel suo hangar presso il cosmodromo di baikonur prendendo polvere fino al 2003 quando un cedimento del tetto ne ha causato la distruzione e uccidendo otto persone gli buran fu senz'altro un progetto interessante da un punto di vista tecnico per capacità di carico e per i suoi sistemi automatici si può dire che fosse leggermente superiore allo shuttle era capace di portare in orbita 30 tonnellate e deorbitarne 25 contro il carico massimo di 25 tonnellate dello shuttle che ne poteva deorbitare 15 e tutto il sistema era riutilizzabile insomma aveva alcune caratteristiche migliori però allo stesso tempo è difficile paragonarli almeno all'atto pratico dato che il buran ha fatto solo una missione di test mentre lo shuttle americano nonostante la perdita di due equipaggi ha completato con successo 133 missioni quindi un po secondo me il buran rappresenta il canto del cigno dell'unione sovietica l'ultimo tentativo di competere con il programma spaziale americano che un po conclude un'era in cui si facevano enormi imprese solo per fare i gradassi alla fine se pensiamo che su sei missioni di sbarco sulla luna solo le ultime avevano una vocazione scientifica le prime avevano più che altro motivo propagandistico nella logica della guerra fredda per fortuna oggi le cose sono cambiate l'esplorazione spaziale ha molto più una connotazione scientifica rispetto a prima e questo grazie anche al cambio di prospettiva siamo riusciti a costruire per esempio una stazione spaziale internazionale e bisogna ricordare che i moduli che costituiscono la stazione spaziale internazionale sono stati assemblati proprio in collaborazione fra russia e stati uniti quindi in un certo senso lo spazio un po come il mare ha la capacità di unire le persone più che dividerle quando vogliono ovviamente e si spera cina permettendo che idiozie come quella di mandare un satellite spara mine e laser da 80 tonnellate sia solo un ricordo del passato bene amici con questo è tutto non dimenticate di lasciarmi un mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate di questo video nei commenti alla prossima un abbraccio